Seduta del 22 gennaio È stata approvata nell'aula di Palazzo Lascaris la legge che istituisce la nascita di un nuovo comune a Mappano senza oneri per la regione. È proseguito poi l'esame del disegno di legge di riforma urbanistica con l'approvazione di alcuni articoli ed emendamenti relativi ai piani regolatori comunali. In una pausa dei lavori sono state ricevute le rappresentanti del Comitato Mamme della Val Susa che hanno chiesto rassicurazioni sul futuro del reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Susa. Commemorazione di Gianni Agnelli Si è svolta il 24 gennaio a Torino una cerimonia pubblica a Palazzo di Città per ricordare l'avvocato a dieci anni dalla scomparsa. Presenti il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e numerose autorità tra cui il Presidente del Consiglio e della Giunta regionale. Durante la manifestazione è stato ricordato l'importante rapporto tra Agnelli e la città di Torino. I Savoia alla Biblioteca della Regione Sono dedicate ai Savoia e ai loro simboli l'esposizione e la serie di conferenze che hanno preso il via il 23 gennaio alla Biblioteca della Regione di Via Confienza 14. Aperta fino al 28 febbraio, la mostra raccoglie spade, onorificenze, diplomi, decorazioni civili e militari, bandiere e distintivi. Le conferenze del mercoledì, a partire dalle ore 17, approfondiranno le figure delle principesse Adelaide e Carolina, il primo viaggio del Bucintoro, 450 anni da capitale di Torino e gli ordini cavalereschi dei Savoia. Chi fosse interessato può partecipare su prenotazione alla visita guidata dalla mostra che si svolge ogni mercoledì alle 16. Ebrei fra persecuzione e rifugio Storie individuali di persecuzione, solidarietà e coscienza civile legate alla Shoah. Questo è il tema portante delle due ricerche presentate a Palazzo Lascaris il 23 gennaio durante un incontro organizzato dalla Comunità Ebraica di Torino e dall'Istoretto in collaborazione con il Comitato Resistenza e Costituzione. L'incontro ha visto la presentazione dell'opera in tre volumi di Limorje-Ghil La France, Terre des Refuges et des Obédients Civils 1936-1944 e del progetto di Adriana Muncinelli, oltre il nome. Museo Ferroviario Piemontese È stata inaugurata nella Sala Incontri dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico la mostra Un Futuro per il Museo Ferroviario Piemontese tecnica e passione al servizio della cultura ferroviaria. L'allestimento propone pannelli fotografici e modellini di treni d'epoca stampe raffiguranti stazioni del passato e immagini storiche di manifesti dedicati alla strada ferrata. La rassegna, curata dal Museo Ferroviario Piemontese di Savigliano è visitabile fino al 27 febbraio. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!